Continuiamo a parlare di comunicazione digitale con una persona che è in parte anche padrone di casa perché è colui che ci sta curando lo streaming e il rilancio del segnale in tutta una vastissima rete di web tv italiane, questa rete di web tv italiane si chiama AltraTV, è una rete che raggruppa centinaia di web tv in tutta Italia e ha contatti contestate web in tutta la rete, lui si chiama Giampaolo Colletti e io lo invito sul palco. Grazie dell'invito, buon pomeriggio, io in questi 15 minuti vi racconterò dieci anni di storia delle web tv italiane. Vi racconto quella che si chiama generazione netizen, netizen è un termine molto utilizzato nel linguaggio anglosassone e ha a che fare con i cittadini digitalizzati, gli internet citizen. Ecco in Italia, anche in Italia nonostante alcune difficoltà infrastrutturali e di alfabetizzazione alle nuove tecnologie abbiamo da molti anni parecchi cittadini digitalizzati, AltraTV.tv racconta questi cittadini digitalizzati e racconta quindi l'utilizzo del video in rete, il video per informare, per promuovere il territorio, per denunciare quello che non va, per creare spesso un filo diretto tra cittadini e pubblica amministrazione. Mi aiuto con alcune slide perché vorrei farvi vedere anche alcuni di questi netizen, alcuni di questi creatori di web tv in Italia che poi sono sparsi un po' ovunque e tra poco daremo anche alcuni numeri. Ecco questa è una sorta di puzzle di questa Italia digitalizzata, un'Italia che è composta nel 2012 da 642 web tv. Sono 642 antenne distribuite in ogni angolo del territorio, 30 media universitari, web tv universitarie e 815 testate digitali basate sul video, quindi diciamo videocentriche. Non ho il telecomandino della slide, se qualcuno dalla regia mi può aiutare perché quella successiva... Eccola qui, quella successiva poi gioca in casa perché racconta l'esperienza di PN Box, web tv di Pordenone, nata alcuni anni fa, che è diventata la prima web restaurant tv in Europa. Una televisione che racconta in rete quello che accade sul territorio di Pordenone, ma nello stesso tempo consente di provare prodotti tipici del territorio, chilometri zero in un restaurant tv che dà pane, acqua e internet, beni considerati primari, gratuitamente. La particolarità di questa esperienza è che è partita con queste lavatrici distribuite in ogni angolo di Pordenone per raccontare quello che avveniva. Un'altra esperienza molto particolare, da Pordenone ci spostiamo alla provincia di Cagliari, siamo a Gergei, 70 chilometri da Cagliari, dove una famiglia di pastori ha deciso di combattere la crisi attraverso le nuove tecnologie. La pastorizia è un settore fortemente in crisi, in Sardegna come nelle altre parti dell'Italia, e questa famiglia ha deciso di digitalizzare la sua azienda. Il pastore, la famiglia Concas, ha creato il cosiddetto video blog del pastore, la possibilità di adottare una pecora a distanza. La cosa particolare è che la famiglia Concas ha fatto questa operazione con i figli, utilizza le nuove tecnologie, utilizza la rete, e oggi fa alfabetizzazione anche verso le restanti comunità di pastori. In questo paese, Gergei, 1500 anime, ci sono 70 famiglie dedicate alla pastorizia. Il progetto si chiama Sardinia Farm, sardiniafarm.com, andatelo a vedere perché è molto particolare. È stato raccontato pochi giorni fa anche su Innovation, sulla 7, e in qualche modo racconta un altro modo di fare impresa utilizzando le nuove tecnologie e il made in Italy. Vado avanti e racconto un'esperienza che ha legato una comunità territoriale, legata a un territorio montano come quello abruzzese, con chi ha deciso di andare fuori Italia, per lavoro, per necessità, e quindi la comunità di italiani all'estero. Questa è la web tv di Valmontano, provincia di Teramo, creata da due ragazzi, vedete, con telecamerine semiprofessionali, queste telecamerine che ti permettono oggi di realizzare un contributo video e poi di postarlo in tempo reale in rete. Le tecnologie sono diventate molto più flessibili, però la particolarità di questa web tv è un po' di tutte le web tv italiane che hanno saputo creare un legame anche con la comunità di italiani all'estero, e dalla rete, dal web, e questa è un'altra particolarità tutta italiana, queste esperienze creano degli incontri fisici, e quindi ci sono i bar camp, ci sono i flash mob, ci sono gli incontri, i meeting, pensate che questi due ragazzi, Alfio e Roberto, riescono ogni anno a intercettare a ferragosto, in un periodo vacanziero, chi decide di andare e di tornare appunto nella terra natale, e quindi la web tv diventa un momento di confronto anche con chi va all'estero. Le web tv italiane sono anche web tv di denuncia, una denuncia anche sinonimo di antimafia, la rete su questo si batte da tempo, questa esperienza è quella di teleiato, siamo a Partinico in Sicilia, provincia di Palermo, ed è una web tv a conduzione familiare, a realizzarla Pino Maniaci, la sua famiglia, Pino Maniaci ha subito 300 rotte querele, molti danni alla propria automobile, alla propria redazione, ma nonostante tutto prosegue, è una tv di comunità, nel nord Europa sono molto più diffuse, da noi molto meno, però è una televisione di comunità con delle frequenze sulle televisioni locali, ma che poi trasmette in rete, e a raccontare di teleiato e dell'antimafia, molto spesso sono i network europei. Un'altra esperienza che ci porta da Palermo a Milano, siamo vicino quindi, siamo qui, giochiamo in casa, un'esperienza di memoria storica, tra le tante web tv che su altratv.tv sono state raccontate, che poi in molto tempo sono state raccontate su Nova 24 del Sole 24 Ore, c'è anche storie digitali, una televisione che racconta la memoria storica di un territorio come quello di Milano, geolocalizzando le aree geografiche, quindi filmati d'archivio vengono digitalizzati e attraverso la digitalizzazione si ha una specie di album dei ricordi, che tra l'altro affonda anche nei decenni, un progetto molto interessante, storiedigitali.net, andatelo a visitare. Un altro paio di casi di successo, di storie di questi netizen italiani, qui siamo da Milano, torniamo giù, andiamo a Sorrento, un'esperienza di promozione territoriale, miasorrento.it, un portale che insieme alla comunità di albergatori sorrentini ha creato una piattaforma di UGC, UGC sono gli user generated content, tecnicamente sono i video realizzati dagli utenti. Questi UGC vengono postati direttamente quindi dai turisti, e quando parliamo di Sorrento parliamo soprattutto di turisti stranieri, soprattutto nord-europei e statunitensi, e quindi in realtà le recensioni, prima si parlava di recensioni, vengono realizzate direttamente da chi visita la città, il paese, chi dorme per notte a Sorrento su questa piattaforma. Due punti di riferimento per Altra TV che è nato nell'ottobre 2004, quindi quasi dieci anni dicevo all'inizio, su ispirazione di Carlo Freccero, che per noi è stato un po' il mentore di Altra TV, che ci ha detto provate a capire quello che sta avvenendo in rete, perché si stavano moltiplicando molte web tv create da cittadini, con contenuti bassi, tecnologia molto più malleabile, la possibilità di raccontare quello che avveniva. La prima web tv raccontata è stata Teletorre 19, che è una televisione di condominio di Bologna, creata da un pensionato settantenne, che ancora realizza dopo 15 anni questa web tv a Bologna, in questo palazzone di 72 famiglie. Quindi come vedete le nuove tecnologie diventano molto più flessibili e avvicinano i cittadini, come dicevamo noi, i netizen. Questi sono i nostri due punti di riferimento, quello che diceva Negroponte ormai moltissimi anni fa, che ciascuno avrebbe costruito nel tempo un palinsesto personale, di fatto oggi è così, e poi l'idea che piccoli fenomeni in rete riescano a determinare quelli che sono i macro fenomeni della rete. Quindi quello che accade in un territorio può essere interessante e di analisi per un contesto più ampio e determinare i fenomeni del futuro. Ultima slide con i numeri, queste sono alcune informazioni sull'osservatorio, quelle che vi ho detto prima, ma vado alla slide con i numeri, che raccontano appunto Netizen, che la nostra ricerca annuale uscirà a marzo, Netizen 2013, guardate la crescita, nel 2003 erano 36 le web tv create da questi cittadini digitalizzati, 2010 533, nel scorso monitoraggio raccontato sulle colonne di Nova24 e del Sole24ore, 590 web tv, con un tasso di crescita del più 11%, quindi molti canali aumentano di numero e si crea un nuovo indotto, una nuova filiera, si stima che oggi operino con le web tv in Italia 10.000 videomaker, molti dei quali ci stanno rilanciando in queste ore, in questi minuti. Io vi ringrazio dell'attenzione e buon viaggio tra le web tv italiane, perché su altratv.tv è possibile navigare una mappa interattiva e quindi crearsi il proprio palinsesto personale. Grazie.